Per la puntata del Grande Fratello Vippi in onda su Canale 5 giovedì 16 febbraio Oriana Marzoli ha lasciato nell'armadio gli abiti Elisabetta Franchi. Da quando è entrata nella casa più spiata d'Italia l'influencer venezuelana ha infatti sempre sfoggiato tute e mini dress della nota stilista romagna, una tra le creative più amate in Italia e all'estero. Per una sera, però, la GFina ha deciso di puntare su un marchio più alla portata di tutti. Il brand low cost più amato del momento. Shin Oriana Marzoli ha messo in evidenza il suo corpo tonico con un abito alter monocolore con orlo a fessura dell'azienda cinese, che sta spopolando in Italia e all'estero. In realtà per l'ex fiamma di Antonino Spinalbese non è una novità. In passato, tramite il suo seguitissimo account Instagram, ha diverse volte invitato i follower ad acquistare capi Shin con tanto di codici sconto. Oriana Marzoli ha completato il look con una camicia bianca, una cinta in vita e dei sandali neri. Il prezzo del vestito Shin? 8 euro. Proprio così. Il capo indossato dalla trentenne non costa neppure 10 euro. Oriana una di noi che indossa Shin. Ha scritto qualcuno su Instagram facendo i complimenti per via dei prezzi decisamente competitivi. Sono in molti a scegliere Shin, anche se il marchio presenta diversi lati oscuri come evidenziato in un recente documentario. Secondo un'inchiesta condotta da Channel 4. Rete televisiva britannica. I lavoratori di Shin riceverebbero 4 centesimi a capo. Ne producono almeno 500 al giorno. E la giornata lavorativa durerebbe 18 ore. Inoltre avrebbero un solo giorno libero al mese e durante la giornata non sarebbe prevista nessuna pausa. Tanto che le impiegate sarebbero costrette a lavarsi i capelli durante la pausa pranzo.